Non potevano mancare i colori della giostra nella Cappella della Madonna del Conforto, a conclusione di un'intensa giornata nella quale il popolo aretino ha confermato la propria devozione nei confronti della terracotta miracolosa. La rappresentativa del mondo del Saracino, composta da una delegazione di ciascun quartiere, dagli sbandieratori, dal gruppo musici e da signarrezzi, ha reso omaggio alla madre di tutti gli aretini in una cerimonia composta e partecipata, ma ancora in tono minore a causa della pandemia. Le damigelle di ogni quartiere hanno deposto un mazzo di fiori sopra l'altare ai piedi dell'immagine mariana e uno sbandieratore si è poi esibito nel singolo. Successivamente Don Alvaro Bardelli, parroco della cattedrale, ha guidato i presenti nel rivolgere una preghiera alla Madonna e infine le note di Terra d'Arezzo, eseguite dal gruppo musici, hanno risuonato tra le volte del Duomo. Si è rinnovato dunque il legame che unisce la giostra alla compatrona della diocesi, un vincolo affettivo già insito nella rievocazione cavalleresca proprio alla Madonna del Conforto e infatti dedicata all'edizione di settembre del Saracino.